Grazie. Perfetto, bene, ci siamo. Bene, ragazzi, allora, mi sentite intanto? Mi sentite? Sì? 31, mi sembra impossibile che siete 31 solo. 5, 15, 6, un po' di più, 47, secondo me. Ok, tutti? Codice a posto? Bene. Allora, lezione di oggi. Lezione di oggi, come vi dicevo, vertirà su tre argomenti, tre esercizi. In fondo mi sentite, ragazzi? In fondo mi sentite? Ok, grazie mille. Allora, vertirà su tre argomenti. Primo argomento, limiti. Andremo a calcolare i limiti di funzioni elementari e andremo a calcolare questi limiti utilizzando quelle che abbiamo chiamato algebra di limiti finiti e l'estensione dell'algebra di limiti finiti ai singoli più infinito e meno infinito. E zero, divisione per zero. Ok? Quindi nella parte di teoria che abbiamo fatto la settimana scorsa. Poi andremo a calcolare l'immagine di funzioni elementari e utilizzeremo anche in questo caso la teoria che abbiamo visto la settimana scorsa nella quale, a partire dai grafici di funzioni elementari utilizzando le simmetrie rispetto agli assi e le traslazioni che hanno come direzione l'asse delle x e l'asse delle y quindi che spostano la funzione in questo modo e in questo modo riusciamo a costruire, a partire dalle funzioni dei battoncini Lego della nostra teoria e quindi delle funzioni elementari riusciamo a costruire i grafici di funzioni più complesse e di queste andiamo a calcolare l'immagine. Terza cosa. Andremo a lavorare sulla funzione composta come vi dicevo nelle domande di teoria nell'esame ci sono quattro domande di teoria i gruppi FO e PZ preparo io per i gruppi FO e PZ preparo io le domande di teoria e quello che vi chiederò è date due funzioni andare ad individuare se esiste la funzione composta F dopo G, G dopo F, F dopo F e così via e quindi ci dedicheremo a questa parte qui. Vi ricordo che per la domanda di teoria dovete stare particolarmente attenti perché è una domanda a scelta multipla quindi con cinque opzioni ma è l'unica parte dell'esame che ha una penalizzazione e cioè se rispondete in modo corretto vale un più un punto se invece rispondete in modo errato vale meno 0.5 quindi bisogna stare molto attenti e in più questa è una cosa che devo già oggi cercare di ricordarvelo perché altrimenti rischiate poi di creare di trovarvi in difficoltà all'esame quello che mi interessa ricordarvi è che nel momento in cui voi mettete il pallino per scegliere un'opzione allora non potete più non rispondere alla domanda attenti potete ancora cambiare il pallino ok? la scelta multipla dove volete voi ma non potete più decidere di togliere quel pallino lì ok? quindi nel momento in cui avete deciso di rispondere e cliccate il pallino a quel punto a quella domanda voi dovete rispondere sono riuscito a spiegarmi? ecco le esercitazioni che ci sono come esempio d'esame hanno proprio questa caratteristica ed è una criticità che ha Moodle da questo punto di vista ok torniamo un attimo all'esame allora abbiamo con la lezione di oggi dovremmo alla fine della lezione di oggi cosa che dovremmo essere in grado di fare allora l'esercizio 1 perché richiede proprio il calcolo dell'immagine di una funzione elementare poi l'esercizio 2 e l'esercizio 3 sono calcolo di un dominio e di un assegno di una funzione che abbiamo visto la settimana scorsa e dopodiché l'esercizio 4 è il primo di oggi cioè l'esercizio sui limiti ok? quindi e contemporaneamente adesso siamo in grado di fare la funzione composta quindi stiamo in qualche modo mettendo assieme tutti quanti i pezzettini per andare a non spero avere meno problemi possibili nel momento dell'esame chiaro per tutti? andiamo limiti sei volontaria? ti offri volontaria per questo limite? è scappata subito no dai non scappare così allora adesso ragazzi nella prima parte cercherò di andare piano e di collegarmi il più possibile con le domande con la teoria che abbiamo visto che avete visto nelle lezioni la settimana scorsa poi pian pianino comincerò a fare i limiti in modo sempre più veloci in maniera da non perderci troppo tempo ok? ma all'inizio ci tengo almeno nella prima parte di farvi vedere come questi qui questi limiti si basano in modo pesante sulle teorie che abbiamo fatto assieme ok allora limiti limiti di una somma una somma questa qui quindi la limiti di una somma è la somma dei limiti se i limiti esistono e sono finiti quindi semplicemente sposto il limite nelle due funzioni adesso vado a calcolare il limite delle due funzioni osserviamo x alla seconda è una parabola ok parabola rivolta verso l'alto se volete ed è una funzione che sappiamo essere continua in tutti i punti del suo dominio vi ricordate? quindi per le funzioni continue cosa che posso fare? posso prendere il valore e sostituirlo al posto della funzione perché vi ricordo che la caratteristica delle funzioni continue è proprio quella che il limite per x che tende a x con 0 di f di x è proprio uguale ad f di x con 0 cosa vuol dire questa cosa? che io posso prendere l'x con 0 e buttarlo dentro al posto della x e ottengo il risultato qui in questo caso l'1 più lo metto all'interno di x alla seconda e ottengo 1 meno adesso 1 più ma anche la funzione esponenziale è una funzione continua in tutti i punti del suo dominio quindi anche in questo caso posso prendere l'1 inserirlo al posto di x e otterrò e alla 1 e quindi come risultato 1 meno e facilissimo naturalmente 1 meno e è un valore che potete inserire su Moodle ok vi ricordate avete presente la tabellina lo lì è un valore ammissibile limite per x che tende a meno infinito di la x più 1 su x osservate ragazzi quello che abbiamo fatto prima il primo limite che vi ho proposto se osservate è un limite che potevo rispondere al quale potevo rispondere che potevo risolvere direttamente utilizzando l'algebra dei limiti finiti ok la prima parte quella che semplicemente mi diceva i due limiti esistono e sono finiti allora a questo punto esiste anche il limite della differenza o della somma ed è la somma o la differenza in questo caso dei limiti qui in questo passaggio qui adesso cominciamo a lavorare con limiti che vanno ad infinito e quindi comincieremo ad utilizzare le tabelline che avete visto a lezione cominciamo intanto immediatamente posso dire che il limite di una somma è sempre la somma dei limiti ok quanto fa il limite per x che tende a meno infinito di Lx grafico di Lx dov'è il meno infinito il meno infinito è qui quindi il limite è 0 giusto? chiaro per tutti? se vogliamo essere proprio raffinati questo qui sarebbe uno 0 più ok ma come vedrete tra un attimo non c'è nessun problema perché all'esame vi chiediamo semplicemente il risultato come limite senza il segno senza se rimane positivo rimane negativo ok senza il segno più 1 su x questo posso farlo in due modi diversi posso primo modo ricordarmi che 1 su x è questa funzione tutti sono d'accordo? quindi quando va a meno infinito siamo qui e quindi anche questo tende a 0 se vogliamo essere raffinati 0 o meno ok ma poco ci le frega perché questo 0 è come avremmo potuto risolvere questo limite qui? avremmo anche potuto dire questa è una frazione quindi il limite del quoziente è il quoziente dei limiti e quindi questa è una frazione del tipo 1 fratto meno infinito vado a guardare nelle tabelline e vedo che un numero fratto meno infinito fa sempre 0 0 più 0 meno a seconda del segno in questo caso come vedete ho un segno positivo a numeratore negativo a denominatore e quindi tenderebbe a 0 meno come preferite tutte e due vanno bene dubbi? mi seguite? andiamo avanti allora anche in questo caso ho il limite di una somma il limite di una somma è la somma di limiti anche in questo caso osservate la radice quadrata è una funzione continua in tutti i punti del dominio quindi io posso tranquillamente prendere lo 0 e metterlo dentro tutte le funzioni con cui abbiamo a che fare noi tutte le funzioni elementari sono continue nel loro dominio quindi non abbiamo la necessità di stare particolarmente attenti possiamo sempre utilizzare questo risultato quindi questo è la radice di 0 che fa 0 più di nuovo stesso trocchetto di prima questo lo inseriamo all'interno 0 alla seconda fa 0 0 più 0 0 e anche questo facilissimo adesso cominciamo a fare qualcuno un pochettino più complesso e niente di che ma un pochettino più complesso cominciamo a farlo allora facciamo il limite per x che tende a 0 di questo oggetto osservate questo non è un quoziente una somma un prodotto di un'addizione di funzioni questa in realtà è una composizione di funzioni fa parte della teoria che abbiamo visto come cambio di variabile nel limite allora io vi faccio tutti i passaggetti e poi pian pianino vedrete cominceremo a farlo un po' più velocemente questo cambio di variabile nel limite ma all'inizio come vi dicevo prima cerchiamo di andare pian pianino e di fare le cose in modo dettagliato quindi qual è che è il cambio di variabile beh devo imporre che y sia uguale a 1 fratto valore assoluto di x perché perché vedete ho l'esponenziale che viene applicata aperta la tonda 1 fratto valore assoluto di x quindi quello io pongo uguale a y e guardate quindi questo qui mi diventerà il limite di e alla y adesso ho cambiato la variabile quindi qui sotto avrà una y che dovrà tendere da qualche parte come faccio a capire questa y qua dove va beh chiaramente faccio il limite per x che tende a 0 di questa che sarà uguale al limite per x che tende a 0 di 1 fratto valore assoluto perché perché la posizione che ho posto sopra è proprio questa bene ma vediamo un attimo adesso il limite di quella funzione lì è una frazione quindi ho il limite del numeratore fratto il limite del denominatore ci siete? quindi qui ho 1 perché non dipende qual è il limite per x che tende a 0 di valore assoluto di x quanto fa? nessuno ci prova? 0 chiaramente 0 guardiamo un attimo ripassiamolo per tutti questa è la funzione valore assoluto se io tendo a 0 da destra o da sinistra non mi interessa tenderò sempre a 0 quindi qui ho 1 0 attenzione ho 1 0 sono un po' in difficoltà adesso perché perché sono un po' in difficoltà? perché mi piacerebbe sapere se quello lì è 1 0 meno 1 0 più perché questo mi cambierebbe il risultato del limite siete d'accordo? perché se quello lì è 1 0 più allora ho un numero positivo fratto 0 più che mi fa più infinito se invece quello lì è 1 0 meno un numero positivo fratto 0 meno che mi fa meno infinito che 0 è quello lì? 1 0? più certo che è 1 0 più perché vedete che rimane al di sopra dell'asse delle x arriva a 0 ma la funzione è tutto un intorno togliete il puntino in tutto un intorno la funzione è sempre positiva quindi questo è uno 0 più quindi questo è un più infinito e abbiamo appena capito allora che la y dov'è che andrà? andrà a più infinito quindi questo è il risultato adesso la funzione esponenziale la conosciamo benissimo quando x va a più infinito dove va la funzione esponenziale? a più infinito più inf e avete risolto l'esercizio ok? si poteva fare in modo più veloce certo ok ma il fondamento teorico su cui si basano i passaggetti più veloci che magari siete già abituati di fare sono questi qui e cioè cerco di capire dove va la funzione e e e sistema allora qualcuno mi chiede qualcuno è un po' in ritardo molto probabilmente con un po' in ritardo il mio audio e quindi mi arrivo un po' in ritardo ho uno 0 più che era correttissimo e mi chiedono se posso ripetere questo questo passaggio qui allora lo ripeto un attimo velocemente allora cosa che faccio? tecnicamente quello che io faccio è prendo e mi accorgo che questa è una funzione di funzione quindi una f di g di x che è la funzione più interna la funzione più interna è questa vedete 1 fratto valore assoluto di x allora cosa faccio? pongo y uguale ad 1 fratto valore assoluto di x e la sostituisco eccola qua abbiamo messo y e adesso devo capire per dove va y perché ho cambiato la variabile ma devo capire dove va questa variabile quando la x precedente va a 0 cosa faccio? utilizzo proprio la relazione che abbiamo individuato e mando a 0 la x la y dovrà fare altrettanto ok? quindi capirò dove dovrà andare la y infatti ho scritto questa prima quarta qua per dire semplicemente sto cercando di capire dove va la y quando la x va a 0 mi ricordo che la y è 1 su x e qui ho una frazione fatto una frazione un numeratore fatto un denominatore il denominatore è diverso da 0 è 1 il numeratore invece tende a 0 esattamente tende a 0 più perché ho un valore assoluto e quindi ho qualcosa che in un intorno è strettamente positivo quindi 1 fatto 0 più il tabellino mi va più infinito questo significa che la y non dava più infinito quindi ho individuato dove va la y ma adesso diamo la funzione esponenziale e la funzione esponenziale per x che va più infinito viene sparata più infinito va bene per tutti ragazzi è tutto velocemente ma spero che sia chiaro ok? bene grazie a tutti questo è facile allora, limiti di un quotiente è il quotiente dei limiti quindi limite per x che tende a 1 meno di 1 fratto limite per x che tende a 1 meno di x meno 1 al numeratore sicuramente abbiamo 1 cerchiamo di capire cosa succede al denominatore allora, limite per x che tende a 1 meno allora, sicuramente, guardate prima di tutto, lì dovrò mettere 1 al posto di x giusto? quindi se io metto 1 al posto di x mi viene 0 il problema è capire se c'è 1 0 meno 1 0 più io mi do il suggerimento e vi dico come faccio sempre io allora, io mi scrivo 1 e cosa vuol dire 1 1 meno? beh, 1 1 meno voglia dire se questo è lo 0 un po' più a sinistra rispetto a 1 quindi sarà tipo 1 0.9 tutti d'accordo? adesso abbiamo 0.9 meno 1 che fa meno 0.1 tutti d'accordo? beh, allora questo 0 qui cos'è? 1 0? 1 0? meno ok, attenti non è giustissimo ok, come ragionamento ma non sbagliate neanche se volete non è giustissimo da un punto di vista teorico ma se fate così non sbagliate neanche se volete perché avete capito secondo me il concetto importante che cosa significa essere 1 meno un po' più a sinistra rispetto all'1 e 1 fratto 0 meno come fa come risultato? meno infinito che scriviamo meno innanzitutto innanzitutto un po' più a sinistra rispetto all'1 e 1 e 1 e 1 e 1 e 1 e 1 e 1 e 1 e 1 e 1 e 1 anche questo è molto molto semplice e allora un attimo solo ma come faccio ad essere certa che x meno 1 è continuo? allora rispondiamo a questa domanda come facciamo ad essere sicuri che la vostra collega mi dice prof però lei ha fatto un po' il furbetto perché lei mi ha fatto mi ha messo dentro qui dentro l'1 e mi sta facendo non mi sta facendo le cose proprio fatte bene in realtà hai ragione ha ragione ho detto poi vado un po' più veloce per essere proprio pignoli 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 cosa avrei dovuto fare in questo passaggio qui? avrei dovuto fare questo passaggio qui e cioè il limite per x che tende a 1 meno di x meno il limite per x che tende a 1 meno di 1 questa è una retta e quindi è continua e quindi questo fa sicuramente 1 meno meno e questa è una funzione costante che fa 1 ok se vogliamo proprio essere raffinatissimi dovremmo fare così in realtà noi sappiamo che le rette sono delle funzioni continue vi ricordate? abbiamo detto tra i vari video abbiamo visto le rette sono delle funzioni continue e quindi se ci pensate anche questa è una retta ok y uguale a x meno 1 è una bisettrice è parallela alla bisettrice primo terzo quadrante quindi in realtà anche questa sarebbe una funzione continua quindi avrei potuto fare giustificato anche il passaggio di prima vi ripeto ragazzi tutte le funzioni elementari sono delle funzioni continue per costruire una funzione continua devo generalmente utilizzare una funzione discontinua devo generalmente utilizzare quelle che abbiamo visto come funzioni definite a tratti vi ricordate? quelle che costruiamo per giusta posizione quelle che le parentesi graffa per capirci ok? ritorna? ok spero di essere riuscito a spiegare e andiamo avanti a questo esercizio qui limiti di una somma somma dei limiti allora il limite per x che tende a più infinito del logaritmo di x più 1 beh ma il logaritmo di x più questo posso farlo in due modi oh mi ricordo che il logaritmo di x più 1 è semplicemente la funzione logaritmo che abbiamo spostato a sinistra di un passo ok? oppure dico ma cosa succede quando x adesso comincio a fare un po' più raffinato cosa succede quando x va più infinito? beh questo qua va più infinito più infinito più 1 andrà più infinito e quindi faccio il logaritmo di più infinito che fa più infinito ragazzi ci siamo tutti? bene stessa cosa lì limite per x che tende a più infinito di 1 su x allora abbiamo un qualcosa abbiamo un meno il limite di 1 rimane 1 sotto x va più infinito un numero fatto più infinito mi fa 0 se vogliamo essere raffinati sarebbe uno 0 più ok? ma non ce ne può fregare di meno quindi sarebbe un più infinito adesso sarebbe meno 0 più ma tanto più infinito meno 0 fa sempre più infinito ok? vi ricordate? più infinito più qualsiasi numero fa più infinito a maggior ragione più infinito per più 0 più più 0 fa più infinito ci siamo tutti? bene adesso ne facciamo due di un po' più vigliacchi allora facile anche questo comunque allora vi lo faccio lo stesso un'altra volta con il cambio di variabile va bene? anzi prima ve lo faccio con il cambio di variabile e poi lo facciamo lo faccio in modo veloce con il cambio di variabile dovrei porre y uguale 2 meno 4x quindi questo mi diventerebbe il limite per x che tende a meno infinito di oh scusate ho sbagliato 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 farmi lì non scrivete limite per y che tende che non sappiamo gentilissimo grazie mille grazie mille proprio molto gentile di 1 fratto logaritmo di y ragazzi mi avete seguito? adesso devo capire due cose devo capire fondamentalmente dove va a finire quella y ma allora facciamo il limite per x che tende a meno infinito di y che è uguale al limite per x che tende a meno infinito di 2 2 meno 4x e questo cos'è? quanto fa? se volete potrei dire 2 meno 4 per più infinito meno 4 per più infinito fa meno infinito meno infinito meno 2 fa meno infinito ma io devo fare quel più infinito e quindi ho sbagliato meno infinito per meno 4 fa più infinito più infinito più 2 più infinito ragazzi vi torna? ho scritto una cosa ne ho detto un'altra ma spero che vi sia chiaro va bene a tutti? quindi qui abbiamo il limite abbiamo capito che va più infinito adesso questa diventa 1 fratto di logaritmo di più infinito non è giusto scrivere così ma ci siamo capiti quanto fa il logaritmo di più infinito? quanto fa? più infinito quindi 1 fratto più infinito mi fa 0 mi avete seguito? guardate potevo farlo direttamente sì ok meno infinito ve lo faccio qui sono sicuro che qualcuno di voi lo avrebbe fatto direttamente in questo modo avrebbe detto questo mi va a meno infinito e quindi con il meno 4 mi va a più infinito insieme con il 2 mi va a più infinito logaritmo di più infinito vuol dire che tutto il denominatore va a più infinito ma allora questo è un qualcosa del tipo 1 fratto più infinito che fa decisamente 0 ok va benissimo anche così questa è la versione veloce per chi ha già fatto i limiti li ha già calcolati più volte per chi invece magari li ha visti in modo meno dettagliato le superiori cerco di darvi tutta quanta la costruzione logica poi come sapete voi vi incastrate con la vostra competenza nelle lezioni a seconda delle conoscenze che avete pregresse ragazzi mi avete seguito facciamo l'ultimo no ne facciamo sì sì facciamo l'ultimo cos'è questa ragazzi cos'è questa qua è una funzione di funzione in realtà vedete una f di g di x e guardate qual è il trucchetto qui per risolvere questa il trucchetto è porre y uguale all'ogaritmo di x infatti questo è il limite per y che tende a qualcosa che adesso non so di che cosa di y fratto 2y meno 1 vedete è in realtà era la composizione di due funzioni il logaritmo e successivamente una funzione omografica e cioè quella che abbiamo appena scritto in questo momento ok allora cerchiamo di capire cosa dobbiamo mettere in questa posizione come facciamo passiamo il limite per x che tende a più infinito e cioè quello di prima il limite per x che tende a più infinito del logaritmo di y che fa più infinito direttamente dal grafico ok abbiamo capito che questo va più infinito adesso questo qui è la funzione omografica possiamo risolvere questo in due modi diversi il primo ricordandoci il grafico della funzione omografica questa funzione omografica cos'è che ha ha come assintoto verticale ok in questo caso y uguale a un mezzo lo vedete quello che nulla è il denominatore y è uguale a un mezzo eccolo qua ha invece come assintoto orizzontale il rapporto tra i coefficienti e cioè uno qui e due sotto casualmente ci viene ancora un mezzo adesso devo capire se è lei o la cugina brutta vediamo come faccio a farlo calcolo la funzione nello zero per y uguale a zero per y uguale a zero la funzione vale vedete zero sopra fratto due per zero meno uno zero fratto due per zero meno uno e cioè fa zero il che vuol dire che la funzione passa per questo punto allora vuol dire che è fatta così questa e questa bene una volta che mi sono fatto questo ponticino qui posso dire che per x che va a più infinito la mia funzione andrà andrà assintoto orizzontale un mezzo giusto per tutti potevo farlo in un altro modo certo abbiamo visto questa lezione limite per y che tende a più infinito di y fratto due y meno uno cos'è che vi suggerivo in questo caso di raccogliere sopra e sotto il monomio di grado massimo sia sopra che sotto sopra è già raccolto sotto lo raccogliamo e ci vende due meno uno su y questo lo posso fare sempre quando ho un limite per x che va a più infinito e un polinomio numeratore un polinomio denominatore si chiamano razionali fratte ok guardate questi due animali vanno via qui rimane uno dove va questo qui sotto quando x tende a più infinito uno fratto y quanto tende a a zero quindi questo è semplicemente un mezzo e ci ritroviamo da un punto di vista analitico quello che prima avevamo visto da un punto di vista grafico non mi ha niente dubbi problemi mi avete seguito ok allora con questo finiamo la prima parte ok primi limiti e adesso ci dedichiamo alla seconda parte e cioè immagine di funzioni mi serve farvi questa parte qui perché immagine di funzioni ci è fondamentalmente utile anche per la seconda parte e ho una una domanda e quindi vi chiedo di portare un attimo pazienza perché mi chiedono di ripetere la parte dell'assintoto di un mezzo allora l'assintoto di un mezzo in ogni funzione omografica la funzione omografica abbiamo visto che è fatta così f di x uguale a x più b fratto c x più d ok allora la funzione omografica è sempre sempre l'iperbole equilatera riferita agli assintoti che è andata a farsi un giro per il piano ok si è spostata in giro noi dobbiamo semplicemente capire dove è andata a finire attenti potrebbe essersi spostata e se siete stati attenti durante le registrazioni potrebbe anche aver subito una simmetria assiale ok ma lo vediamo fondamentalmente guardiamo un attimo cosa è che sono quali sono i due parametri importanti che dobbiamo tenere presente dobbiamo tenere presente questa parte qui perché questa ci dice dove si è andato a spostare l'assintoto verticale per l'esattezza x uguale a meno d fratto c e poi cosa dobbiamo stare attenti dobbiamo stare attenti al rapporto tra i tra i coefficienti di grado 1 a numeratore e denominatore perché questo invece ci dice dove si è spostato questa volta l'assintoto orizzontale e questo è esattamente uguale ad a su c ok guardiamo un attimo permettetemi di fare questo conticino qui con y fratto quindi x fratto 2x meno 1 limite per x che tende a più infinito di x fratto 2x meno 1 naturalmente è la stessa di prima come vedete la variabile giusto ragazzi non prendete paura prima c'era y che andava a più infinito di y fratto 2y meno 1 quindi semplicemente ho messo x fratto 2x meno 1 quali sono i parametri importanti in questo caso guardate questi qui sotto e quindi 2x meno 1 uguale a 0 e quindi x uguale a un mezzo e questo mi ha dato l'assintoto verticale gli altri due che sono i coefficienti della x a numeratore fratto denominatore a numeratore o x quindi il suo coefficiente è 1 1 fratto 2 e questo mi ha dato l'un mezzo che ho scritto mi ha dato l'un mezzo che ho scritto là Elena spero che sia chiaro mi dici se va bene così penso di sì perché non mi risponde magari sì perfetto grazie mille gentilissima voi ragazzi ritorno attorno a tutto voi qui in classe ok bene allora prossimo esercizio c'è guardate è proprio un esercizio che si collega direttamente con quello che abbiamo detto perché ci chiede proprio di calcolare l'immagine della seguente funzione e guarda caso per un colpo di fortuna abbiamo di nuovo una funzione omografica meglio così facciamo ci ricordiamo di nuovo ok ci disegniamo i nostri assi x e y e adesso con lo stesso colore di prima devo trovare l'assintoto verticale denominatore uguale a 0 x uguale a 3 mezzi ci siamo tutti quindi adesso adesso assintoto verticale e orizzontale rapporto tra i coefficienti in questo caso sono questo e questo i due coefficienti ci siete quindi sono meno 3 fratto meno 2 e cioè tre mezzi y uguale a 3 mezzi adesso la funzione è quella diritta ok o quella simmetrica dipende da se ha subito o no una simmetria come facciamo come al solito calcoliamo il valore della funzione in un punto se è possibile e cioè se appartiene al dominio in questo caso ci sta conviene sempre calcolare nello 0 ci viene 1 meno 3 per 0 fratto 3 meno 2 per 0 e cioè un terzo il che vuol dire che nello 0 per x uguale a 0 la funzione vedete sta qui la cosa importante è che sta sotto l'assintoto verticale è orizzontale e quindi sicuramente è questa se invece questo valore fosse stato ad esempio 5 allora vorrebbe dire che la funzione era nello 0 era al di sopra dell'assintoto e quindi avrei disegnato la sorella brutta mi avete seguito qui adesso ci chiedevano di calcolare l'immagine di questa funzione allora come facciamo a fare l'immagine vi dicevo rette parallele all'asse delle x tante rette parallele all'asse delle x e cerchiamo di capire dove vado a trovare la mia funzione allora vediamo un attimo qui la pesco la pesco interseco il grafico della mia funzione continuo a intersecarlo vedete quindi da meno infinito fino e qui qui non la trovo più però infatti questo è un assintoto per la funzione a quel livello io non trovo più la funzione e poi comincio a ritrovarla appena sopra vedete e poi continuerò a trovarla quindi qual è l'immagine di questa funzione l'immagine è meno infinito virgola tre mezzi parentesi rotonda unito tre mezzi virgola più infinito e su moodle scriviamo meno inf virgola tre mezzi unito tre mezzi virgola più inf senza spazi e con le virgole inf torna a tutti uno spettatore mi fa una domanda e mi dice può ripetere l'ultimo passaggio che immagino fosse esattamente questo allora la cosa che dovete ricordarvi è che quando voi avete trovato i due assintoti la funzione potrebbe essere quella che abbiamo disegnato noi oppure l'altra ok come facciamo a capire quale delle due beh calcoliamo la funzione in un punto in questo caso lo zero vi consiglio sempre lo zero perché se è possibile perché chiaramente vi semplifico un sacco i conti e se la funzione fosse quella blu allora il valore nello zero dovrebbe essere qui che vedete è al di sopra del valore dell'assintoto mentre noi l'abbiamo trovato uguale ad un terzo che invece è al di sotto del valore dell'assintoto allora se è al di sopra del valore dell'assintoto ho quella blu se invece è al di sotto del valore dell'assintoto ho quella che è in viola chiaro per tutti ragazzi anche a casa mi sembra che sia a posto e siete riusciti a vedere qui no perché c'è in mezzo questa allora avete recuperato l'informazione di Sino un'altra domanda dovete portare pazienza per calcolare l'immagine non basterebbe fare solo il rapporto dei coefficienti e troviamo subito l'assintoto senza anche porre il denominatore uguale a zero e Davide ha detto prof lei qua me la sta tirando lunga per fare l'immagine mi basta semplicemente l'assintoto orizzontale ha ragione ok me ne frega niente di sapere l'assintoto verticale però per completezza vi ho fatto tutto quanto tutto il grafico però da un punto di vista tecnico Davide ha perfettamente ragione e se volete da un punto di vista pratico ci serve capire se è lei o la cugina brutta o la sorella brutta non ce ne può fregare di meno perché vedete che l'immagine è uguale per tutte e due quindi da questo punto se questo è l'esercizio non ce ne frega niente né sapere quale è l'assintoto verticale e né capire se è lei o la cugina brutta perché il risultato da un punto di vista di immagine è esattamente lo stesso mi avete seguito? ok altro? altro? ecco ripeto per questo esercizio naturalmente vedremo nella terza parte della lezione che invece quando devo fare la composizione di funzioni e ho una funzione omografica mi serve conoscere il dominio e anche l'immagine e quindi mi servono tutte e due quindi per questo esercizio se chiedo semplicemente l'immagine non ne ne frega niente del dominio ma vedrete nel prossimo esercizio che invece il dominio mi interessa quindi in qualche modo quello che ho fatto adesso vedrete che non è fatto in più ma poi abbiamo una base un po' più solida per fare la prossima tipologia di esercizio passiamo a questo facile questo perché perché logaritmo di x tutti d'accordo? logaritmo di meno x cosa faccio? simmetria rispetto all'asse delle y ok? ricordate il vaso di ghost mi torna? adesso questa però non è ancora il valore assoluto cosa che fa il valore assoluto? se io voglio fare il valore assoluto di questo oggetto qui e cioè voglio calcolare il valore assoluto del logaritmo di meno x devo lasciare x quando lei è positiva e farla rimbalzare verso l'alto simmetria rispetto all'asse delle x per essere preciso quando lei è negativa quindi qui e lei 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 arrivo allo zero e qui mi rimbalzo verso l'alto in modo simmetrico ok così come questo andava verso meno infinito questo andrà verso più infinito ma allora cominciamo a fare qui troviamo qualcosa? no quando comincio a trovare? qual è il primo punto in cui comincio a trovare qualcosa? questo vedete e da qui in poi quindi la mia immagine è zero compreso più infinito che scriverei zero virgola più inf naturalmente parentesi quadrata perché lo zero c'è e più inf perché senza spazio è quella virgola mi avete seguito? ok prossimo potrebbe riprendere la soluzione sì, forse sono troppo veloce allora, ripeto un attimo la soluzione cosa succede qui? devo prendere solamente la curva gialla e quindi quali sono i valori con cui la funzione gialla interseca un qualsiasi asse parallelo all'asse delle x beh, sotto non trovo niente qui non trovo niente vedete qui non c'è niente non trovo la mia funzione questa è quella di prima non va mica bene è solo quella gialla che devo vedere comincio a trovarla da qui e poi continuerò a trovarla fino in cima fino a più infinito quindi il risultato è 0 compreso questo è lo 0 compreso e più infinito spero di essere riuscito a spiegarmi torniamo a questa allora, vi ricordo queste qui come facciamo a guardarle? come facciamo ad analizzarle? sempre leggendolo al contrario ok? invece di leggere da sinistra verso destra leggiamo da destra verso sinistra grazie a te allora x y x minore di 0 vuol dire che siamo qui adesso dobbiamo prendere la funzione esponenziale trovare e al meno x simmetrico rispetto all'asse delle y adesso però abbiamo fatto questa qui dobbiamo fare più 2 cosa significa fare più 2? significa prenderla e spostarla verso l'alto di due passi mi avete seguito? allora per fare questo spostamento fissiamoci un punto questo punto qui quanto vale? vale x uguale a 0 y uguale a 1 ok? e da qui dobbiamo spostarci verso l'alto di quanti passi? abbiamo detto di due passi quindi questo punto diventerà qui e qui e quindi questo punto diventerà 0 3 ma guardate la funzione sotto qui in questa parte qui sotto ha solo un passo poi ha il suo assintoto l'esponenziale e quindi questo assintoto si sposterà a questo livello e la mia funzione sarà esattamente questa questa è la meno x più 2 si capisce ragazzi? si capisce? la prendo tutta? no non la prendo tutta la prendo solo un pezzettino quale? per x minore di 0 abbiamo detto quindi prendo qui 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 adesso vi chiedo e quel punto lì lo prendo o no? o è un pallino pieno o un pallino vuoto? anche da casa quello lì è un pallino pieno o un pallino vuoto? vuoto perché è vuoto? bravissima perché è minore stretto il vostro collega mi ha detto è sicuramente vuoto perché c'è minore stretto quindi quello lì vuoto anche Virginia è uguale Virginia mi sembra Virginia sì perfetto brava Virginia è bravissima e abbiamo fatto la parte superiore la parte sotto è facilissima perché è x alla seconda ok la disegno qua sotto ok e poi la riportiamo lì è x alla seconda meno x alla seconda fa così e questa dobbiamo prenderla solo per x maggiore o uguale a zero quindi mi serve da qui in giù e quindi mi scrivo solamente questo pezzo qui mi scrivo tutta e poi evidenzio questa è meno x alla seconda e prendo da qui in giù questa volta naturalmente il pallino è pieno qui perché abbiamo l'uguale adesso siamo in grado di dire qual è il l'immagine di questa funzione adesso cominciamo quindi qui continuo ad andare giù cominciamo con degli assi qui troviamo certo che troviamo vedete continuo a trovare la mia funzione continuo a trovarla l'ultimo punto in cui la trovo è esattamente questo quindi sicuramente abbiamo da meno infinito fino allo zero unito qui non troviamo niente 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 fino a quando non arrivo a questo punto qui che è il punto 3 3 e da lì in poi continuerò a trovarla quindi 3 virgola più infinito ho lasciato apposta vuoti qui i pezzettini lì perché chiedo a voi cosa devo mettere nello zero e nel 3 che parentesi devo mettere nello zero allora nello zero una parentesi quadrata ottimo e nel 3 rotonda perché lo zero è contenuto ma il 3 no ragazzi a posto tutti scriviamoli in Moodle meno inf virgola zero unito 3 virgola più inf senza spazi e con le virgole chiaro per tutti ci siamo e con le virgola che è l'immagine allora andiamo a fare il nostro ragionamento questa cosa che è questa è un'inizione omografica quindi come prima stessi colori pongo lo zero x più 1 uguale a 0 x uguale a meno 1 assintoto verticale per x uguale a meno 1 assintoto orizzontale 1 e 1 quindi y uguale a 1 lo 0 c'è quindi non ho nessun problema e quindi posso calcolare 0 fratto 0 più 1 che fa 0 quindi la funzione passa per questo punto ah guarda questa volta non è la sorella bella ma è la sorella brutta se ne facciamo una ragione ok mi avete capito? perché? perché sta al di sotto dell'y uguale a 1 perfetto che è l'immagine ma piano 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 non posso andare avanti così perché devo trovare anche il valore assoluto di questa schifezza qui ok perché y uguale a 1? y uguale a 1 perché spettatore anonimo mi viene da ridere ogni volta era spettatore anonimo perché? perché y uguale a 1? perché devo fare il rapporto tra i coefficienti qui c'è 1 e qui c'è 1 è la stessa cosa che facevamo prima con ax più b fratto cx più d io vado a prendere i coefficienti della x però se non c'è niente è come se ci fosse 1 quindi 1 fratto 1 mi fa 1 deve essere apposto ma adesso dobbiamo prendere il valore assoluto facciamo come prima e cioè quando è positiva la riscriviamo uguale e quando è negativa se vi ricordate nei video vi ho messo come stupidaggine per ricordarvi pensate a una pallina da ping pong che arriva sulla tavola che rimbalza ok lei vorrebbe passare sotto ma il valore assoluto ve la fa rimbalzare verso l'alto rimbalzare verso l'alto esattamente con la stessa forma e quindi fa così ne avete seguito ragazzi sì no bene qui sotto non c'è niente 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 eccola qua che trovo per la prima volta la funzione e poi continuare a trovarla vedete guardate y uguale a 1 la trovo la funzione per y uguale a 1 questa altezza qui questo è un assintoto la trovo sì eccola qua ok e quindi poi la ritrovo di nuovo quindi l'immagine quale che è l'immagine di questa funzione 0 compreso più infinito che scriviamo come 0 virgola più inf senza spazi con la virgola chiaro ragazzi mi avete seguito c'è qualche dubbio fatemi aspettare un attimo che vediamo da casa cosa succede da casa non ci sono dubbi e quindi possiamo andare avanti ok adesso ve ne faccio una che invece è carogno e attenti perché ci sono queste ci sono anche quelle carogne quindi non non distraetevi e guardate bene quello che faccio adesso allora un'altra tipologia di esercizi che potete trovare è questa adesso cerchiamo di capire perché questa qua è carogna questa qui è carogna perché se la osservate non è una semplice una funzione elementare che abbiamo semplicemente ruotato di cui abbiamo fatto la simmetria rispetto all'asse delle x o delle y oppure che abbiamo traslato nella direzione di un asse e la direzione dell'altro o a cui abbiamo messo il valore assoluto questa è una composizione di funzioni f di g di x quelle che abbiamo imparato adesso sono quelle un po' più difficili ok sono quelle che ci forniscono uno strumento migliore perché ci permettono naturalmente di creare tantissime funzioni ma contemporaneamente sono un po' più difficili da trattare l'abbiamo visto ad esempio nei limiti quando abbiamo fatto il limite della funzione composta abbiamo dovuto introdurre particolare attenzione per questo cambio di variabile vedremo domani in teoria come la criticità maggiore nelle derivate sia legata alla derivata di una funzione composta ok non tanto la derivata della somma al quoziente o del prodotto perché sono facili ma la derivata di una funzione composta è un po' più complessa qui è uguale e cioè qui ci troviamo a voler calcolare l'immagine di una funzione composta naturalmente non saranno difficili quelle che vi chiediamo saranno come questa qui particolarmente facili però dovete individuarle e capire che guardate questa in realtà cosa che fa prima manda x in x alla seconda più 1 e poi a questa ci fa e x alla seconda più 1 quindi questa qui non è altro che la funzione esponenziale la composizione di due funzioni prima la funzione x alla seconda più 1 e poi la funzione esponenziale ok vanno in successione una dopo l'altra come facciamo a risolvere questo esercizio perché noi vogliamo calcolare l'immagine di questa funzione beh è abbastanza facile guardate prima di tutto calcolo la funzione l'immagine della prima funzione della g la prima che agisce questa qua cos'è che è una parabola rivolta verso l'alto traslata di 1 è quasi imbarazzante calcolare l'immagine di questa cosa l'immagine di questa prima funzione sarà 1 compreso più infinito bravissimo 1 compreso più infinito veramente vedete qui sotto non trovo niente quando comincio a trovare questo livello qui che è l'1 e poi continuo a trovare due soluzioni adesso proviamo a riflettere un attimo io il grafico della funzione lx lo conosco benissimo ok e perché ho scritto lx perché lx è proprio la seconda funzione o e elevato alla x la seconda più 1 e io so che l'immagine di lx è 0 escluso più infinito ma l'immagine di lx è 0 escluso più infinito vedete se io posso calcolare se io posso calcolare se posso far muovere lx in tutto l'asse dell'x la domanda che dobbiamo porci adesso è ma se calcoliamo la x in solo nei punti solo nei valori assunti dalla funzione più interna possiamo muoverti su tutto l'asse evidentemente no vedete vedete x alla seconda più 1 non assume tutti i valori non posso ottenere tutti i valori reali e quindi il grafico della funzione esponenziale che andremo ad utilizzare non avrà non potrà utilizzare tutti quanti i valori dovremo e questa è la regoletta fondamentale limitare il dominio della seconda funzione all'immagine della prima funzione ve lo ripeto dobbiamo limitare il dominio della seconda funzione la funzione esponenziale all'immagine della prima funzione tecnicamente guardate cosa facciamo prendiamo l'immagine e la mettiamo nel dominio della seconda e cioè da 1 a più infinito quello che succede è che io devo prendere e dimenticarmi quello che sta qua fuori qui non c'è più niente e guardo la funzione esponenziale solo lì dentro ma allora la funzione esponenziale assume valore da qui verso l'alto e quant'è questo valore qui? abbiamo detto che questo qui è 1 quindi e alla 1 e alla 1 e cioè e quindi quale sarà l'immagine di questa funzione vedete qui non trovo niente 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 qui comincio a trovare poi da qui fino a infinito e quindi l'immagine di questa funzione è 1 virgola e virgola più infinito che scrivo e virgola più inf senza spazio e con le virgole mi avete seguito? provo a ripetarlo allora la cosa importante in queste funzioni è che in realtà la x la seconda funzione vedete la funzione esponenziale proviamo a ragionare in un altro modo vedete la funzione esponenziale guardate il suo argomento vedete che il suo argomento non può essere un qualsiasi numero reale perché x alla seconda più 1 non è un qualsiasi numero reale in particolare x alla seconda più 1 sarà sempre maggiore di 1 maggiore o uguale a 1 vedete che è proprio maggiore o uguale a 1 l'immagine dell'altra allora io non potrò mai avere ad esempio e alla meno 3 perché? perché alla meno 3 x alla seconda più 1 non sarà mai uguale a meno 3 non potrò mai uguale a meno 5 perché x alla seconda più 1 non sarà mai uguale a meno 5 potrò assumere solamente i valori che sono nell'immagine della prima funzione ok? e quindi cosa faccio tecnicamente? prendo il dominio della seconda funzione e lo ristringo all'immagine della prima guardate che non è una cosa così e dovrebbe rimanere in mente questa cosa qui perché qual è la condizione di esistenza della funzione composta? una funzione composta questo ci collega immediatamente anche all'altra all'ultimo esercizio che facciamo l'ultima tipologia di esercizi che facciamo oggi qual è l'esistenza della funzione composta? che l'immagine della prima sia contenuta nel dominio della seconda ok quindi cosa succede? che l'immagine della composta allora richiederà che noi limitiamo il dominio della seconda funzione all'immagine della prima mi avete seguito? facciamoci un altro esempio e così vediamo magari se abbiamo capito sentiate allora mannaggia funzione di funzione ok quindi dobbiamo calcolare la prima funzione e la seconda funzione in realtà quindi questa funzione qui è essenzialmente la funzione logaritmo la seconda che agisce bene proviamo a pensare un attimo cosa succede allora calcoliamoci l'immagine della prima funzione facile io la mia funzione radice quadrata che conosco benissimo e questa funzione radice quadrata la traslo verso l'alto di e alla quarta quindi questo mi diventa questa altezza qui questa altezza qui mi diventa e alla quarta ok quindi questo punto qui sarebbe x uguale a 0 y uguale a e alla quarta a questo punto qui e questo è radice quadrata di x più e alla quarta facile è semplicemente una traslazione nella direzione dell'asse delle y qual è l'immagine di questa funzione qui non trovo niente non trovo niente non trovo niente qui comincio a trovare da qui fino in cima quindi l'immagine della prima funzione l'immagine della funzione radice quadrata di x più e alla quarta non è altro che e alla quarta virgola più infinito tutti mi hanno seguito adesso cosa devo fare devo limitare prendere il scusa modifica la gruppa spostiamo al suo lato devo limitare limitare il dominio della prima della seconda funzione all'immagine della prima ci siete quindi ho il mio bellissimo logaritmo bellissimo ci fa per dire e non lo posso calcolare in qualsiasi valore perché perché ad esempio questo punto qui che sarebbe x uguale a 1 non lo potrò mai ottenere da radice quadrata di x più e alla quarta ok quindi lì non ci arrivo dovrei che dovrò limitarmi dovrò limitarmi e alla quarta più infinito quindi dovrò eliminare tutta questa parte qua del grafico del logaritmo e devo capire però quanto vale questo punto chi è che me lo sa dire quanto vale questo punto qual è beh l'ordina la scissa di questo punto è la quarta quant'è l'ordinata Davide che soddisfazione che mi dai 4 giusto bravissimo Davide cos'è che ha detto il logaritmo di e alla quarta è uguale qual è l'esponente che devo dare ad e per ottenere e alla quarta 4 naturalmente ci siete quindi questa qui vale 4 ma allora io quando è che comincio qui non trovo niente perché non sto guardando la funzione sotto devo guardare la funzione da questo punto in su quindi qui non c'è niente caspita qui l'ho trovata da 4 a più infinito quindi l'immagine di questa funzione è 4 compreso più infinito che scriviamo 4 virgola più inf ragazzi mi avete seguito sono facili anche questa semplicemente dovete una volta che vedete la funzione dovete capire se quella funzione lì è una funzione composta e allora utilizzate questa tecnica oppure un'altra funzione e allora utilizzate un'altra mi permetto di farvi vedere come sia possibile fare il calcolo di questa funzione di questa l'immagine di questa funzione altrimenti in un altro modo le facciamo per tutte e due allora vedete qui abbiamo la y uguale questa è la funzione di primo ok stiamo calcolando l'immagine allora un'altra tecnica che si può utilizzare è quella di prendere e invertire piano piano la funzione ok quindi io adesso vado a invertire la mia funzione mettendo le condizioni quindi invece di y uguale a qualcosa devo trovare x uguale a qualcosa le condizioni che man mano impongo saranno quelle che poi mi daranno in realtà le condizioni sull'immagine della funzione originale guardate infatti adesso io voglio trovare x uguale quindi devo applicare il logaritmo da una parte dall'altra ma quindi y deve essere positivo altrimenti il logaritmo io non lo applico quindi faccio il logaritmo di y uguale a x alla seconda più 1 sposto di là ottengo x alla seconda uguale al logaritmo di y meno 1 e quindi adesso ottengo che x è uguale alla radice quadrata del logaritmo di y meno 1 a patto che questo sia positivo a patto che logaritmo di y meno 1 sia maggiore uguale a 0 e e queste due condizioni assieme mi danno i possibili y e cioè se volessi essere proprio raffinato direi il dominio di questa funzione qui è esattamente l'immagine dell'altra controlliamo y maggiore di 0 qui abbiamo logaritmo di y maggiore uguale di 1 e quindi y maggiore di 0 y maggiore uguale di e ok quindi intersezione tra le due e compreso l'infinito secondo me è più facile quella grafica che vi ho insegnato io però io ve le ho fatte tutte e due secondo me non è neanche da paragonare perché qui devo stare attento facciamoci anche l'altro per completezza formale così abbiamo fatto tutto qui applico l'esponenziale quindi non devo fare nessuna cosa quindi e alla y uguale a radice quadrata di x più e alla quarta quindi radice quadrata di x uguale a e alla y meno e alla quarta qui devo porre una condizione invece vedete perché il risultato di una radice deve essere maggiore o uguale a 0 quindi e alla y meno e alla quarta deve essere maggiore o uguale a 0 e quindi x uguale radice quadrata di e alla y e sì e alla y meno e alla quarta tutto quadrato ci siete? ci siamo portati dietro questa condizione qui che ci ha permesso di invertire la funzione altrimenti non potevamo farlo e alla y maggiore o uguale di e alla quarta logaritmo da tutte le parti y maggiore o uguale di 4 morale della favola 4 compreso più infinito che è esattamente quello che avevamo trovato prima sì no ho sbagliato fammi ho incorniciato quello sbagliato ragazzi mi avete seguito quella delle due avete capito anche questo semplicemente inverto inverto la funzione man mano quindi se ho scritto y uguale a qualcosa una f di x cerco di scrivere x uguale a una g di y però nei vari passaggi devo stare attento e di mettere delle condizioni che mi permettono di utilizzare queste funzioni di fare questa inversione vi torna torna chiaro a tutti ok abbastanza vi è chiaro il metodo grafico che è quello che mi interessa di più perché secondo me è quello più facile quello vi è chiaro chiaro posto va bene ok ultimo argomento della lezione di oggi quello che ha a che fare con quello che chiamiamo la domanda di teoria ok che per FO e PZ e cioè i corsi di cui sono titolare io saranno costruite nel seguente modo grazie a tutti grazie a tutti allora dobbiamo dire se quale delle seguenti proposizioni è giusta esiste g dopo g e mettiamo et esiste f dopo f2 qui abbiamo poi g dopo f f dopo g g dopo f f dopo g g dopo f f dopo g g allora esiste questa esiste anche questa non esiste questa esiste questa esiste questa e non esiste questa non esiste nessuna delle due mi avete capito allora cos'è che sto dicendo sto dicendo date quelle due funzioni dovete trovare quale di queste di queste affermazioni logiche corrette e cioè esiste la funzione composta g dopo g e f dopo f e poi esiste oppure esiste g dopo f e anche f dopo g oppure non esiste g dopo f ma esiste f dopo g oppure esiste g dopo f ma non esiste f dopo g oppure non esistono né f dopo g né g dopo f mi avete seguito ok che cosa dobbiamo fare per risolvere questi esercizi sono di una banalità mostruosa dovete calcolare il dominio di f e l'immagine di f il dominio di g e l'immagine di g dominio di f imbarazzante immagine di f altrettanto imbarazzante dominio di g argomento della radice positivo giusto maggiore uguale a zero quindi quindi uno compreso più infinito chiaro per tutti x meno uno maggiore uguale a zero quindi x maggiore uguale a uno quindi uno compreso più infinito immagine di g immagine della radice cos'è quella lì una radice che abbiamo spostato in questa direzione ok quindi l'immagine sarà sarà zero compreso più infinito allora cosa dobbiamo controllare f composto f g composto g f g g e f ricordandoci che la funzione composta esiste quando l'immagine della prima è contenuta nel dominio della seconda esiste la funzione f composto f certo perché perché l'immagine di f r che è contenuta nel dominio di g che è r ok g dopo g è vero che l'immagine di g è contenuta nel dominio di g è vero che questa che l'immagine di g è contenuta nel dominio di g che è questo sì o no no bravissimo cosa mi fai un esempio di un punto che sta nell'insieme di sinistra e non sta nell'insieme di destra lo zero bravissimo lo zero sta a sinistra e non sta a destra quindi sicuramente non lo posso fare ok quindi questa qui è g dopo g non esiste torna ragazzi torna a tutti questa invece l'immagine di f è contenuta nel dominio di g immagine di f r è contenuta nel dominio di g che è zero più infinito r meno 1 ci sta sicuramente a sinistra e non ci sta a destra e l'immagine di g che è zero virgola più infinito è contenuta nel dominio di f che è r sì quindi vediamo un attimo attenzione attenti adesso prestate attenzione per favore un attimo solo che poi ho anche una domanda finisco di fare l'esercizio e poi rispondo allora quindi attenti scusatemi mi sono perso attenti esiste questa ok questa come si chiama si chiama f dopo g o g dopo f f dopo g ok mi raccomando devo stare attento f dopo g ok attenti che vanno invertiti mi raccomando infatti questa sarebbe la f di g di x vedete che è la prima che lavora la prima che lavora è la g e poi la f mi avete seguito tutti adesso guardiamo un attimo esistono cosa che esiste esiste questa esiste questa andiamo a evidenziarci quindi esiste questa e poi f dopo g f tondino g questa e questa qui là sotto mi dice scartiamo la 4 e la 5 di sicuro che mi dicono che non esiste f composto g rimangono le prime tre soltanto che la prima mi dice che dovrebbe esistere anche g dopo g e questa non esiste la terza la seconda mi dice che dovrebbe esistere anche g dopo f l'unica giusta è questa ragazzi mi avete capito mi torna domanda da casa scusi professore perché il dominio di g parte da 1 e non da meno infinito perché g è una radice quadrata eccola qua g è la radice g di x è la radice quadrata di x meno 1 e quindi il suo argomento dovrà essere maggiore o uguale di 0 e quindi x dovrebbe essere maggiore o uguale di 1 e quindi il dominio è 1 più infinito ragazzi mi avete seguito sono tutte così tutte precise identiche potrebbe riprendere l'immagine di g si riprendiamo l'immagine di g allora abbiamo la radice quadrata radice quadrata di x radice quadrata di x meno 1 cosa significa? io mi sono spostato questa volta in avanti nel verso e nella direzione dell'asse delle x in avanti di un passo questa è la radice quadrata di x meno 1 quindi questa funzione qui vedete ha esattamente la stessa immagine della funzione radice di x e quindi quella che abbiamo indicato come 0 compreso qui è finito e abbiamo ripreso anche questa ne facciamo un altro ok questa anche si no facciamo l'ultima dai allora qui facciamo come al solito sempre la solita domanda quindi esiste questa esiste questa esiste questa esiste questa esiste questa ma non esiste questa non esiste questa ma esiste questa non esiste nessuna delle due et 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 contemporaneamente prima seconda terza quarta e quinta condizione come al solito dominio di f immagine di f dominio di g immagine di g cos'è questa qui è il logaritmo questo è il logaritmo di x soltanto che questa volta questo logaritmo di x meno 1 si è spostato alla vostra destra di un passo ok quindi questo qui è il logaritmo di x meno 1 infatti il dominio di logaritmo di x è 0 compreso più infinito il dominio di questo oggetto qui invece è 1 compreso più infinito e quindi il dominio è 1 più infinito se vogliamo avrei potuto fare x meno 1 maggiore di 0 e cioè x maggiore di 1 e mi veniva esattamente la stessa cosa chi è l'immagine di questo invece il logaritmo di x meno 1 tutto r meno infinito più infinito tutto r perché qualsiasi altezza vedete io vado a pescarla tac 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 qualsiasi altezza la trovo quindi qui abbiamo tutto r permettetemi di cancellare e qui adesso ci torna utile quello che vi ho insegnato all'inizio all'inizio della lezione di oggi relativamente alla funzione omografica quando vi ho detto sì ok che potete fare la funzione omografica senza aver calcolato il dominio però adesso il dominio vi serve vedete e questa è proprio una funzione omografica quindi come al solito assintoto verticale denominatore uguale a 0 e quindi meno infinito 1 unito meno 1 più infinito va bene per tutti invece assintoto orizzontale rapporto tra i coefficienti che sono 1 e 1 e quindi meno infinito 1 unito 1 più infinito domanda viene sempre uguale questo e questo viene sempre uguale no bravissimi ok ho visto qualcuno che con qualche titubanza diceva no cioè no è solo un caso ok guardate per rendervene conto provate semplicemente a pensare che se qui ci fosse stato x più 1 ok l'assintoto il il dominio scusate l'assintoto orizzontale sarebbe stato sempre 1 e quindi l'immagine ma il dominio sarebbe stato x diverso da meno 1 e quindi qui avrei avuto un meno quindi è solo una casualità che siano venuti uguali ok solo un caso di solito vengono diversi siamo quasi alla frutta ma ce la possiamo fare f dopo f g f c dopo g f g g f allora l'immagine di f è contenuta nel dominio di f sì o no è vero che r è un sotto insieme di 1 virgola più infinito evidentemente no è vero che l'immagine di g è contenuta nel dominio di g certi sono più uguali sì e quindi g dopo g esiste è vero che l'immagine di f che r è contenuta nel dominio di g che è meno infinito 1 unito 1 più infinito è vero sì o no sì o no no perché qui c'è l'uno e qui l'uno non c'è l'abbiamo eliminato quindi no è vero che meno infinito 1 unito 1 più infinito è contenuto in 1 più infinito è vero no ci mancano tutti questi e quindi no neanche questa quindi l'unica che esiste è g dopo g allora vediamo noi ce la cerchiamo l'unica che esiste è questa è cacchio però questa la prima non è giusta non può essere giusta la prima perché mi chiede mi diceva anche che doveva esistere la f dopo f e f dopo f abbiamo visto che non esiste quindi questa non va questa non va perché mi dice che esistono tutte e due questa non va perché mi dice che esiste la prima questa non va perché mi dice che esiste la seconda sicuramente giusto a questo perché mi dice che non esiste nessuna di queste mi avete capito dubbi problemi a posto ok allora domanda buongiorno professore volevo chiederle se in preparazione dell'esame bisogna ripassare i punti di non derivabilità adesso no non li chiediamo comunque all'esame i punti di non derivabilità quindi Matteo tranquillo non preoccuparti per i punti di non derivabilità non li chiediamo qualche altra domanda dubbio vi regalerai quasi quasi un minuto di vita perché sono 29 che lo dite ok grazie mille grazie mille Grazie.